Troppe richieste da parte dei cittadini per i servizi dell'area sociale, così la sindaca Cecilia Francese ha disposto la chiusura al pubblico dell'ufficio che si occupa di sede, di assegni di maternità e dei nuclei familiari e dei bonus per il gas e per l'elettricità. Domani resterà chiuso come accaduto già lunedì. Per chi gestisce l'area sociale infatti incombe una scadenza ravvicinata. Entro fine del mese sulla piattaforma Sgate, il sistema di gestione delle agevolazioni delle tariffe energetiche predisposto dal Lanci, vanno caricate le domande che i clienti domestici disagiati hanno sottoposto all'attenzione di palazzo di città per poter beneficiare di uno sgravio che vale circa il 15% in meno in bolletta. Un compito, quello di caricare i dati, che spetta ai dipendenti dell'ufficio, che quest'anno si sono ritrovati tantissimi moduli. Fino a venerdì si lavorerà soltanto il bonus, lasciando uno spiraglio per la comunicazione ai battipagliesi che dovevano avanzare la domanda e non l'hanno fatto finora.